Buongiorno e bentornati con l'informazione di Telefriuli con il Tg delle 12 e 30. Dopo il primo caso di Covid-19 riscontrato in una scuola superiore di Cervignano del Friuli, i pomeriggio è emersa una nuova positività per un allunno di un asilo. Si tratta del Sacro Cuore, la scuola dell'infanzia parrocchiale di Bertiolo. Il bambino ieri non si era sentito bene, il pediatra aveva indicato di eseguire il tampone che purtroppo ha confermato i sospetti. La conferma della notizia è arrivata direttamente dal vice governatore Riccardo Riccardi, che ha sottolineato come i piccoli compagni di classe. Una ventina di bambini e gli insegnanti già ieri sono rimasti a casa per precauzione. Tutti saranno sottoposti al test per escludere ulteriori contagi. E a 40 anni dalla morte di Achille del Pizzo, un carabiniere deceduto in servizio durante un inseguimento, lo ricorda il fratello Ciro. Il militare perse la vita a soli 18 anni nella notte tra il 30 e il 31 maggio del 1980 sulla strada di Redi Puglia. Da quella volta, dice il fratello, nulla è più rimasto lo stesso. 40 anni fa moriva in servizio a soli 18 anni un giovane carabiniere a Fogliano, Redi Puglia, lo ricordiamo, insieme al fratello Ciro. L'evento successe il 31 maggio del 1980. Durante un inseguimento, pare, ci fu un incidente stradale e il giovane Achille del Pizzo morì perché è sbalzato fuori dalla macchina sull'asfalto. Batteva violentemente il capo e pare che morì per soffocamento. Ma l'arma dei carabiniere ci è sempre stata molto vicina. Devo dire che negli anni comunque sono sempre stati molto vicini a mia madre, inviandoci periodicamente gli inviti alle manifestazioni. Nel ricordo possiamo dire che era un ragazzo molto buono, molto affettuoso nei confronti della mamma, protettivo nei miei confronti, ma anche della sorella più piccola, Francesca. Ed era un ragazzo, diciamo, che aveva, come dire, la carabiniere dentro. È una donna di 30 anni caduta intorno alle 20 di ieri con la sua bicicletta dentro alla roggia nel capoluogo, nella zona storica di San Vito al Tagliamento. È stata soccorsa dai sanitari dopo l'allarme. Si è ferita a un ginocchio e non riusciva più ad alzarsi. I pompieri hanno utilizzato una barella a toboga per estrarla in sicurezza. Poi l'hanno fatta scivolare su un tronco di scala italiana e quindi l'hanno affidata alle cure mediche di un'ambulanza, controllando i suoi parametri vitali fino all'arrivo dell'equip sanitaria. È stata portata in ospedale e non è in gravi condizioni. Poi un incidente poco prima delle 9 di questa mattina lungo l'autostrada 4 tra San Dona e Meolo in direzione Venezia. Il conducente di un mezzo pesante che trasportava cemento ha perso il controllo, ha coinvolto anche un altro mezzo pesante e una vettura. Il materiale è finito sulla strada, è stata temporaneamente chiusa l'arteria per permettere le operazioni di soccorso. L'uomo che stava conducendo, il mezzo pesante rimasto ferito, pare non in maniera grave, stato trasportato in ambulanza all'ospedale, sul posto anche polizia, stradale e vigili del fuoco insieme al personale di Autovie Venete. E si sono conclusi in via Mercato Vecchio i lavori da tanto attesi e riaperto l'ultimo tratto della storica strada del capoluogo friulano, smontate le transende ed eliminato il cantiero. Ora manca solo la ripavimentazione di piazza. Guglielmo Marconi, un lavoro complesso durato un anno, siamo contenti. Vediamo il servizio da Udine. Ci troviamo nel tratto di via Mercato Vecchio che è stato aperto proprio oggi, questa mattina. Sì, è stato in pratica tolto il cantiere perché domani e sabato faremo la riconsegna la città di questa via in maniera ufficiosa perché la cerimonia dell'inaugurazione la faremo più avanti quando il coronavirus ci permetterà di portare un po' di gente, di fare una cosa dignitosa e soprattutto importante per una via eccezionale che è la via più importante della città di Udine perché via Mercato Vecchio ha una storia antichissima, 1200, il patriarca, uno dei patriarchi di Aquileia che concesse a Udine la possibilità di fare un mercato e la concessione fu fatta proprio qui in questo luogo che è sempre stato il luogo di commercio, il luogo di negozi e ancora adesso è così. Quindi è una storia antica, rinnovata, con questa pavimentazione nuovissima che ha colto tanti consensi da parte dei cittadini quindi noi siamo contenti perché questo lavoro è durato un anno e ricordiamo che non è stato solo fare la superficie ma anche tutte le cose che sono sotto il piano strada e cioè fognature, acquedotti, reti tecnologiche, tanti lavori. Ecco per portare a ultimazione l'opera che cosa manca ancora? Manca l'arredo, un po' di arredo ma però ce n'è già abbastanza perché i ristoratori, i bar hanno già portato sulla strada i tavoli, le sedie quindi siamo già a buon punto. E restiamo a Udine per parlare del cambio dei tabelloni che indicano dove si può posteggiare e nel caso si trovi appunto, si cerchi posteggio, infatti SSM li ha riposizionati, sono nuovi, modernissimi, vediamo il servizio. Nuovi display a Udine sono in tutto nove. Oggi praticamente facciamo una consegna, sono una sostituzione però con la moderna tecnologia che oggi era giusto adottare di questi nuovi, moderni, tecnologici display che serviranno ai automobilisti, ai cittadini eccetera per capire dove possono andare a parcheggiare avendo già una visione completa dei posti disponibili. E allora occhio ai nuovi pannelli per riuscire a posteggiare in maniera veloce e in maniera sicura senza perdere tempo. Come funzionano e cosa vanno a migliorare ulteriormente? L'obiettivo fondamentale è quello di dare, come diceva giustamente il Vice Sindaco, una informazione completa alla cittadinanza sulla disponibilità dei parcheggi. In quest'ottica qua è volto proprio a incentivare anche l'utilizzo dei parcheggi, oltre alle promozioni, all'apertura H24, alla gratuità dalle 18 alle 22 ai parcheggi di struttura. Questi pannelli, che sono pannelli di indirizzamento intelligente perché di fatto monitorano in tempo reale la disponibilità dei posti auto e indicano il parcheggio più vicino. Qualora il parcheggio più vicino raggiunga la saturazione, il completo, indicano all'utenza il parcheggio immediatamente più vicino dopo quello che è esaurito. Quindi di fatto sono dei pannelli di natura intelligente. Ed è stata celebrata la prima messa in un hangar alla base aeronautica di Rivolto, innanzi l'effigie della Madonna del Santuario di Loreto, un'iniziativa voluta dall'aeronautica nei cento anni in cui è stata, in cui la Madonna è divenuta la protettrice degli aviatori. Siamo andati alla base per farvela vedere in anteprima e prima della partenza del pellegrinaggio che la porterà poi in tutto il Friuli Venezia Giulia. L'effigie della Madonna di Loreto, benedetta da Papa Francesco, sta facendo appunto un giro d'Italia e in queste settimane, da ieri fino al 30, sarà in Friuli Venezia Giulia. Essendo questo il 2020 l'anno dove festeggiamo i cento anni della proclamazione della Madonna di Loreto quale patrona di tutti gli aeronauti, il che vuol dire non solo gente di volo militare però anche civile di cielo e di terra. Ci sarà una serie di appuntamenti cui la comunità friulana non vorrà sicuramente rinunciare? Domenica pomeriggio saremo su Lussari, essendo Tarvisio sede del Teleposto. Poi il 16 di settembre siamo nel Duomo di Udine. Il 22 usciamo un po' dal contesto aeronautico, saremo a Redi Puglia ovviamente per prestare i dovuti onori ai nostri caduti. Poi anche nella destra tagliamento, nel Friuli occidentale, degli appuntamenti? Sì, il 23 settembre la Madonna di Loreto sarà ceduta dal secondo stormo all'aeroporto di Aviano e con una serie di appuntamenti nell'area di Pordenone. E la scuola Mosaicisti del Friuli Venezia Giulia di Spilimbergo è pronta a ripartire il 28 settembre con i propri corsi. Alcuni allievi sono già tornati in aula per il recupero e per il perfezionamento. A fine mese l'avvio dell'anno formativo con metà degli studenti che arrivano da fuori. Italia si conferma il ruolo internazionale di questo istituto. Tutto pronto per l'avvio dell'anno formativo 2020-2021 alla scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo. Primo giorno in programma il 28 settembre. Le lezioni riprenderanno regolarmente, come da tradizione, l'ultimo lunedì del mese nel rispetto dello specifico protocollo di sicurezza e di calamità epidemiologica messo a punto dalla direzione della scuola stessa e già testato nei mesi di maggio e giugno quando la scuola, prima in regione, riaprì agli allievi i laboratori di mosaico e terrazzo perché non verissero meno la conoscenza e la preparazione pratica. Dal 31 agosto in realtà la scuola accoglie già alcuni studenti che hanno colto l'opportunità di frequentare lezioni di recupero e integrazione, propedeutiche all'anno in partenza e utili per coprire quell'attività persa nei mesi passati. Gradualmente dunque gli allievi dei tre corsi stanno ripopolando le aule dei laboratori di mosaico e terrazzo per esercitarsi e sviluppare abilità sempre sotto la guida dei loro insegnanti. Lunedì 14 settembre inoltre sarà avviato, in anticipo rispetto agli anni passati, il corso di perfezionamento dedicato ai maestri mosaicisti che, concluso il percorso professionale lo scorso giugno con la meritata qualifica, vogliono approfondire, attraverso la frequenza di un ulteriore anno alla scuola, la progettazione e la realizzazione di mosaici, seguendone tutte le fasi esecutive, dall'ideazione alla posa. L'internazionalità della scuola è nuovamente confermata dal primo corso che si presenta doppio, diviso in due sezioni e al completo. Secondo una tendenza degli ultimi anni, quasi la metà degli iscritti proviene dall'estero e non solo dall'Europa. Confermati gli allievi del secondo e terzo anno, rientrati progressivamente in questi giorni di settembre, hanno modo di ripassare le nozioni apprese, impostare e organizzare tutto il necessario per la ripartenza. E passiamo adesso alla pagina dello sport, il campione italiano Juniors. Nel salto in DOR, Simone Dalzillo non è andato oltre il metro e 92 nella performance di Remanzacco di martedì, ma è stato comunque un buon test in vista dei campionati italiani di categoria in programma agro seto tra due settimane record stagionale. Invece per Carlotta De Carlo, nei 200 metri ragazzi, nella terza prova del trofeo Modena. Vediamo il servizio. È stato il campione italiano Juniors di salto in alto in DOR, Simone Dalzillo, a inaugurare il nuovo saccone di salto in alto che la società Libertas Grions e Remanzacco ha organizzato nel contesto delle gare di contorno alla terza prova del trofeo giovanile Luigi Modena. Non è andato oltre il metro e 92, ma è stato comunque un buon test in preparazione dei campionati italiani di categoria in programma a Grosseto tra 15 giorni. Remanzacco per una performance che non è venuta dopo tanti impegni importanti come quelli ultimamente che hai vissuto. Partiamo da Lignano. Lignano sicuramente è stata la gara importante da questa stagione outdoor, soprattutto per il personale, però ho anche ritrovato quelle sensazioni di salto giuste che avevo già trovato a Dancona, alle indoor, che mi hanno avuto l'italiano. E quindi è stato sicuramente l'inizio per portarmi bene, che mi ha provato il 2-0-8 al minimo per il cambiamento dei saluti, che fino allora, una settimana prima non ce l'avevo, quindi è stata una gara che ne avevo programmato, gli assoluti la settimana dopo a Padova, però con il 2-0-8 di Lignano sono arrivate. E con questa notizia vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo tra poco l'appuntamento con l'approfondimento del Tg di Avo e la linea con Telefriuli in diretta dal territorio. Grazie per la visione!